Un fenomeno di proporzioni sempre più vaste e preoccupanti che sta provocando danni enormi alla Puglia. Il procuratore di Bari Roberto Rossi, ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle ecomafie, descrive i meccanismi che alimentano il traffico illecito dei rifiuti. A farne le spese sono soprattutto le province di Bari, Batte e Foggia, dove tonnellate di ecoballe vengono abbandonate in capannuni, strade e terrini di campagna. Sotto accusa le società che dovrebbero trattare i rifiuti non destinabili al riciclo e recupero e che invece cercano scorciatoie illegali per risparmiare sul loro smaltimento. Questo materiale viene affidato a piccoli trasportatori a nero e questo pone poi tutto un problema ovviamente di gestione del nero in queste società che trattano rifiuti. Viene dato a questi soggetti, soggetti che non hanno nulla da perdere e che quindi prendono questo materiale e lo portano in Puglia, quindi il flusso che noi stiamo assistendo è Campania, dalla Campania alla Puglia, soprattutto nelle campi del Foggiano e della Batte, cioè della provincia di Barletta Andria e Trani e o lo portano in capannoni che poi vengono incendiati poi dopo oppure vengono distribuiti per le strade. Il traffico illecito dalla Campania alla Puglia è solo uno dei tre fenomeni che la procura distrettuale ha potuto osservare nel corso delle sue indagini sui percorsi che compiono i rifiuti che altrimenti dovrebbero essere destinati a costose operazioni di smaltimento. Cono fenomeno, questo identico materiale derivante da cattiva raccolta e macinato, anche lì codificato 19 e 12, viene portato all'estero in maniera illegale. Terzo fenomeno è quello appunto che dicevo da poco, è il società che devono gestire i rifiuti e che non fanno quello che è promesso nelle gare che loro vincono e quindi poi si trovano in situazioni di difficoltà economica, anche per l'intervento che viene organizzata che in maniera parassitaria fa lavorare delle persone che non lavorano effettivamente e quindi si autofinanziano attraverso il mancato pagamento delle tasse con problemi poi successivi che portano inevitabilmente al fallimento della società stessa. Per marginare il fenomeno serve più attenzione da parte del Parlamento e dei comuni, conclude il procuratore Rossi, ma occorre anche rafforzare i controlli su strada. Bisogna fermare i camion che portano rifiuti. Se si vede un camion, quando vado a fare i corsi alla polizia locale, dico se vedete un camion che sta sgocciolando, quello è un modo terrificante di eliminazione dei rifiuti, perché io faccio così, metto il fango contenente sostanze le più terribili, perché non è con i liquami, lo faccio, apro il rubinetto, prendo il camion e mi faccio tutta l'autostrada. Sono arrivato alla fine del viaggio, ho smaltito un quantitativo enorme di sostanze pericolosissime. Quindi, se io vedo un camion sgocciolare, lo devo fermare e non mi devo fidare di una documentazione che dice poco. Questo è quindi, credo che la Commissione possa sollecitare le forze dell'ordine a fare dei controlli sulla Puglia, in questo momento, sono estremamente necessarie, perché il traffico è enorme e sta provocando danni enormi alla Puglia. Quando si parla della nuova terra di fuochi della Puglia, è un dato di realtà, cioè sta provocando danni notevolissimi.